Ok, allora dove avevamo lasciato la scorsa volta? Ok, benissimo Cazzo, ma... oddio, ma... Oh, porca puttana, mi lacrimano gli occhi Ma quello è un ascensore o... Cioè, ovvio che è un ascensore, dico... C'era qualcuno? Vediamo se scende Merda, mi si inceppa, porca Chissà, scende? Il lancia... ok Da quando è che non ci gioco? Non mi ricordo Eh, ma cazzo, secondo me... Devo riavviare Ok, allora andiamo un attimo Eh, ma sad, aiutava Allora no Mi si inceppa il mouse Devo... Pulirlo un attimo, porca puttana Puliamo il tast... il coso qua Ok, ora se non erro dovrebbe girare bene E non scende nessuno Perché non scende nessuno? Ah, eccolo Mi lagga? Ah, ecco perché Veloce Veloce, muoviti Muoviti, cazzo Più veloce Ok Siamo salvi Sali, 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 sali Oddio, si sta incendiando tutto Porca, oddio, no No, no, oddio Raggiungi la superficie prima che La struttura venga distrutta Intervallo 3 Ah, oddio Ricognizione Ah, ma sono salvo Sono salvo Cazzo No, ecco Dov'hanno questi? Addo, oh Ah, voglio uscire da sti luoghi chiusi comunque Questi posizioni sono posizionati Di quando la rovescia è imminente Tornate Alla posizione iniziale Eh Ecco Ah, va Cioè, ma perché ci dobbiamo fare la guerra E non possiamo fare l'amore, voglio sapere Tanto schifo io fa l'amore gay Oddio, io preferisco quello che Tra un uomo e una donna Però comunque E guarda che chiudono Chiudono Ma Sì, ci scendi tu là sotto È aperto, è aperto Corri, corri, corri Eh, vabbè Si inceppa Ecco Eh, che palle Mi sa tanto che devo scendere proprio in quel cunicolo di merda Trovo il modo di uscire nella zona esterna prima che venga distrutta Oh, avete cagato il cazzo che sta distrutta Ora, quasi quanti mostri che mi trovo davanti Come minimo, cioè Allora, voglio andare all'aria aperta Anche se so che lì comunque ce ne saranno molti di più di mostri Ma comunque Preferisco andare nella cosa esterna Ok, dove vedo acqua vedo salvezza Non so perché Mi piace Mi piace il fatto che ci sta l'acqua Qui ovviamente E mo? Porco Giuda, porco Porco, mo mi ha fatto cagà Scappano Scappano, ma che? Oddio, questa zona no Ho giocato nell'altra modalità Quella là dove se hai un robot C'era, se non sbaglio Anche tipo queste zone qua Non so quanti pezzi di mostri C'erano altri mostri strani Ricarichiamo D D D D D D D Allora Tab Ok Prese conto locale Dice Munizioni a pompa Completate Allora Giusto per sfizio, dai Ok Questo X No, eh È benissimo È benissimo Schiatto E voilà le musichette di Fiat Salvataggio completato Ti salvataggio ogni 2 secondi Ci stanno Ottimo Arrivano i carri armati Arrivano i carri armati Woo Scendi Guarda, guarda Siamo in una miniera Le miniere non mi eccitano particolarmente Cambia Cambia Fugile d'assalto C'è che ti dico che cambiamo con il fucile d'assalto Questa Mo' si che vi faccio il culo E io passo Nooo Ok Munizioni fucile d'assalto Non è che cambia Granché Con questo fucile d'assalto Ok Ok Guarda come sale bellello Sei un figo Sei un figo Cosa c'è qua? Allora Granata Finito Vediamo un pochino Allora ragazzi Volevo dirvi giusto un paio di cosette Credo Oddio Cade il soffitto Comunque Se avete qualche gioco da consigliarmi Da giocare Possibilmente Allora Munizioni acquisite Eh Cambia armi Ah no Vedi dovevo cambiare Per forza l'arma Se avete qualche gioco da consigliarmi Possibilmente online Eh Tipo Cioè vabbè RPG Io faccio comunque I giochi Faccio le recensioni Però comunque Non ti smette mai Non ti smette mai di trovare Il gioco Oh Cristo no Schiatta 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 No Dov'è Si nascondono nell'oscurità Splendente Ti vedi come scendono Eccolo Eccolo What 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 Stavo dicendo Prima che Questi bastardi Mi interrompessero Oh Ma Spendono Da dietro al nulla Che se avete qualche bel gioco Uffa Online Da consigliarmi Perché sto trovando Sto Si Qua non muore Perché sto cercando con un mio amico Un gioco a cui possiamo giocare entrambi Va bene anche Tipo ne abbiamo trovato uno di Di sparatori Di zombie Spara tutto zombie Però Se non sbaglio È un Un'espansione di un altro gioco Che bisogna scaricare steam Bisogna comprarlo E tutte queste stronzate varie Quindi non lo so Qualunque gioco online Va bene Qualunque L'importante è che non ci dite Meeting O queste stronzate Che conoscono tutti E Non Si Oddio dove sta Eccolo Si Un Qualunque gioco online Va benissimo Usiamo un pochino questo Se no Poi cos'altro volevo dirvi più Niente Siamo arrivati Stiamo salendo Con gli iscritti E L'altra scala Ah ecco No E la 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 Non vedo l'ora di finire Questo gameplay di fear Perché così mi dedico A fare un gameplay Cioè non un gameplay Anzi Come avete notato Non ho fatto Le recensioni di minecraft Sulla 1.9 pre-release 1.9 pre-release 2 4 19 30 20 30 20 Certo Appunto non le ho fatte Perché stavo aspettando Di fare la Di fare una Cioè non una recensione Una La La pre-release No Che si usa Ecco qua Stavo aspettando Di Fare Appunto un video Su Sulle novità Della 1.9 ufficiale E quindi non volevo rovinarmi Con la 1.9 La pre-release Del cazzo Pre-release Qua è pre-release Là Questa zona Non mi piace Quindi Scusate se non ho fatto il video Ma è per un buon motivo In un certo senso Salvataggio Armatura conquistata Acquisita Conquistata Dove l'ho letto Conquistata Premi Ah no Speravo di vederti qui Però posso seppellirti Nel luogo in cui Credimi Un colpo in testa Non trattamente riguarda Rispetto a Vabbè Non voglio leggere Perché poi Lo sentirete Nel video Quindi Ma quanti ce ne sono Porca Eh vabbè Dai dai La bomba che torna indietro Oh ma io non le riesco a buttare Ste bombe di merda Comunque Perché premo G Ma non me lo premo Cioè me lo premo Però Mh Cioè con una bomba Mi sono incendiato Con quell'altra pure Guarda quante munizioni La bomba la si però Bombe E' schiacciato Come sono Volgare Se musica di sottofondo L'hanno L'hanno completato L'hanno completato Oddio Dove stanno Eccoli che scendono Mamma come sono Atleti Guarda Ma d'altronde Che vuoi di più della vita Una marlucana Allora Siamo quasi giunti Alla fine Del Del gioco Cioè io Cazzo Merda Ma